Ma perché Gesù? Apre al pubblico il piano nobile dell'Episcopio di Arezzo. Scrigno sconosciuto ai più e che custodisce stanze interamente affrescate da Teofilo Torri e una prestigiosa quadreria con opere databili tra il XVI e il XIX secolo. Un'iniziativa fortemente voluta dall'arcivescovo Riccardo Fontana e che va ad ampliare il Museo Diocesano di Arte Sacra inaugurato nel 2011. Mudas non è ancora completato, aprire il piano nobile è un passo in avanti ma non è ancora completato, abbiamo ancora da fare dell'altro, c'è ancora un piano intero del palazzo che deve essere messo per le funzioni museali e lo faremo. In occasione dell'apertura del piano nobile del Vescovado e dell'ampliamento del Museo Diocesano è stata inaugurata la rassegna nel nome di Maria, che propone opere dedicate alla Madre di Dio dislocate tra la Casa Museo di Ivan Bruschi, il Museo Nazionale d'Arte Medioevale e Moderna e il Museo Nazionale del Collezionismo Storico, aperto pochi mesi fa nella ex chiesa di San Sebastiano. Un percorso che potrà essere visitato con un unico biglietto. Siamo partiti dal discorso della Madonna del Conforto e poi con Su'Eccellenza e con tutti quanti gli altri membri di questo gruppo di lavoro abbiamo anche ragionato sul fatto che quest'anno era l'anno della misericordia. Mettendo insieme queste cose abbiamo deciso di cercare dei segni delle devozioni mariane, non partendo necessariamente dalle grandi opere ma guardandoci intorno nel territorio e scegliendo anche degli standardi delle congregazioni mariane che fossero praticamente inediti. Noi abbiamo sempre proponato nella città di Arezzo questa collaborazione fra le interforze che sono numerose e veramente importanti e significativi nella città. È l'ora che l'Arezzo si riappropri di questo suo rango in campo culturale.